a mano, non mi amici miei, per mi lottare, per la mia dubbia, e non mi sento frustrano, a mano, non mi amici miei, per mi lottare, per la mia dubbia, e non mi sento frustrano, La mano dei miei amici miei, per il mio cuore, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita. Perché il vero bergamasco a mezzogiorno mangia, indipendentemente dalla situazione in cui si trova. La mano dei miei amici miei, per la mia vita, 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 per la mia Grazie a tutti. 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 Toffetti, un attimo che la cerchiamo. Toffetti, venga qui, venga qui un attimo, venga qui. Allora, sentiamo il signor Frank. Scusi, ma secondo lei sono vestiti in pigiama perché è ancora presto la mattina? Esatto. Dici? Sì, dico. Oppure fanno anche i gelatai di secondo lavoro. Ok, grazie. Ci troviamo in un giardino pubblico davanti al Quirinale, sono le ore 9.30 del mattino. In attesa di fare la visita, alcuni turisti utilizzano il meglio, il tempo a loro disposizione. qualcuno ne approfitta per fare meditazione, qualcuno ne approfitta per fare meditazione trascendentale. qualcuno fa la pipì, qualcuno fa la pipì e altri. Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio